vai Antonio che c'è il video no ma quella del coso cosa c'è la carrucola? è attaccata del suo però vai Antonio fammi vedere che ho messo lo schiette ah con lo schiette vai avanti lì? bene Antonio Antonio non parte si guarda come si regge è tirata su troppo è partito che bello è il video Antonio adesso cosa fai? la corda Antonio Antonio ci sta maledendo perché non parla ma sicuramente pure io mentre ce l'ho lì mi sta con lo schiette guarda tira me te ma non fa tirate come fai a tirate? oh ma io mi posso togliere gli occhiali no ma io no Antonio no c'ho paura che mi ha finito sotto ho togliato gli occhiali no no mi sporiamo no 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 Antonio prendi la corda quella d'accordo sgancia cioè non teni la corda dritta qui capito? adesso tirate con la corda devi tirar la corda Antonio tira vai vabbè è pericoloso però lì eh no la festa è tenuto vedi sì vabbè però se sbagli è duro dai Antonio oh con le parolacce non c'è forte vai Anto vabbè ci vediamo dopo non c'è forte prendi il cascato lui